Allora, un evento sportivo importante questo fine settimana a Fano in ambito di Judo. Esattamente, quest'anno abbiamo organizzato qui a Fano un evento molto importante, la qualificazione della Coppa Italia Junior e Senior, a seguire sabato nel pomeriggio la qualificazione dei campionati italiani esordienti A e poi la finale del Gran Premio Marche che andrà a coinvolgere gli esordienti A, gli esordienti B e la classe cadetti. Molto importante soprattutto l'evento di domenica che sarà il Gran Premio Marche che andrà a coinvolgere le classi fanciulli, bambini e ragazzi. Andremo a coinvolgere atleti di tutta la regione Marche con rispettivi tecnici, circa una trentina di società sportive che praticano Judo, per un movimento di giovani che si girerà intorno alle 500-600 unità, accompagnati tutti dalle loro famiglie presso il Palazzetto dello Sport di Fano. Ecco, un Palazzetto dello Sport che vivrà un momento agonistico e sportivo importante. Sicuramente, ci tenevo a portare a Fano dopo tanti anni una manifestazione del genere, anche perché da quest'anno ricopro anche la carica di Vice Presidente del settore Judo per la regione Marche. Con la collaborazione della mia società, perché sono anche Presidente della società di Sant'Orso delle Terrazze, siamo riusciti e pensiamo di continuare negli anni successivi a portare l'evento del Gran Premio Marche e il Gran Premio Giovanissimi. Poi ci saranno tutta questa serie di qualificazioni che pian piano, se riusciamo, un po' qui e un po' anche in altre parti della regione Marche le faremo. Per quanto riguarda il sito abbiamo il CTR Marche su Facebook, abbiamo il nostro sito di Sant'Orso delle Terrazze, Centro Disciplini Orientali. L'ingresso è libero per tutti e spero che questo sport possa affascinare tanta gente e che inizi a praticarlo, perché è per tutte le età. A che ora sarete lì? Beh, noi da prima mattina per all'estri di Palazzetto. Poi ci saranno tutte le gare che si seguiranno con le varie fasi di controllo peso, accredito. Però diciamo che dalle 9 fino alle 6 del pomeriggio siamo lì. Grazie a tutti.